Arsego avrà la sua nuova scuola primaria, posata alla prima pietra, alla presenza anche della maestra Teresa Lorenzin, ultranovantenne ex insegnante della scuola Pascoli di San Giorgio delle Pertiche, che aveva cominciato la sua carriera di docente nel dopoguerra, continuando poi il suo percorso in tutti i plessi utilizzati nei decenni nel comune dell'Alta Padovana. Presente anche la giunta del comune di San Giorgio delle Pertiche, che ha voluto apporre una scritta alla prima pietra ai cittadini del domani, che in questa nuova scuola intraprenderanno il loro percorso di formazione ed educazione, che cresceranno liberi di sviluppare i propri talenti grazie agli insegnamenti che qui apprenderanno, potendo contare sul forte esempio tramandato dalle generazioni passate, solida base su cui poggiano, con fiera identità, le fondamenta di questo edificio. La consegna dell'opera finita, dal costo di 8,5 milioni di euro, di cui 4 finanziati col PNRR, è prevista per il 30 giugno 2026. Grazie a tutti.